Tucidide, figlio di Oloro, nacque nel demoattico di Alimunte presso Atene intorno al 460 anno corrente. Fu uno storico e militare ateniese, noto soprattutto per il suo capolavoro storiografico, La guerra del Peloponneso. Quest'opera, insieme all'opera di Erodoto, costituisce una delle fonti principali utilizzate dagli storici moderni per ricostruire alcuni eventi della storia dell'antica Grecia. Tucidide fu un fervente sostenitore dello statista Pericle e ricoprì la carica di stratega della flotta di Atene nella guerra contro Sparta sul mare Egeo settentrionale. Tuttavia, fu accusato di tradimento per aver fallito la spedizione di soccorso alla battaglia di Anfipoli e fu cacciato da Atene. Si dice che abbia vissuto in esilio in traccia per circa 20 anni. Alcuni studiosi suggeriscono che sia rimasto ad Atene, ma escluso dalla vita politica. Secondo Luciano Canfora, Tucidide non fu effettivamente scacciato, ma fu presente ad Atene nel 411 anno corrente e potrebbe aver partecipato al tentativo di colpo, di stato oligarchico. In seguito, si ritirò in traccia e frequentò la corte del re Macedone Archelaoi a Pella insieme ad altri fuoriusciti, tra cui il famoso drammaturgo euripide. La guerra del Peloponneso. Durante i suoi anni di esilio o permanenza in incognito ad Atene, Tucidide scrisse e organizzò i suoi scritti in un'opera articolata e profonda, la guerra del Peloponneso. Questo resoconto cronologico analitico copre il conflitto tra Atene e Sparta, le due massime potenze greche, che si svolse tra il 431 anno corrente e il 404 anno corrente. L'opera di Tucidide è considerata uno dei maggiori modelli narrativi dell'antichità in termini di modernità. Inoltre, è uno dei primi esempi di analisi degli eventi storici secondo il metro della natura umana, escludendo quindi l'intervento divino. Il pensiero politico di Tucidide. Tucidide non solo registrò gli eventi storici, ma anche le motivazioni e le dinamiche politiche che li hanno guidati. Il suo lavoro offre una visione critica e logica della guerra, con l'obiettivo di trarre lezioni per il futuro. La sua analisi delle cause e degli effetti delle azioni umane ha influenzato la storiografia e la politica per secoli. La guerra del Peloponneso, scritta da Tucidide, è un'opera storiografica che narra il conflitto tra Atene e Sparta e le loro rispettive alleanze durante il V secolo anno corrente. Ecco alcuni dei principali eventi descritti nell'opera, la causa della guerra, la rivalità tra Atene e Sparta, insieme alle tensioni tra le città stato greche, portò alla guerra. La causa immediata fu la disputa sulla città di Corcira Corfu. La peste ad Atene, durante il secondo anno di guerra. Atene fu colpita da una terribile epidemia che decimò la popolazione, compreso lo stesso Pericle e la spedizione in Sicilia. Atene inviò una grande flotta e un esercito in Sicilia per cercare di conquistare Siracusa. Tuttavia, la spedizione si trasformò in un disastro e l'esercito ateniese fu sconfitto. La tregua di Nicia, nel 421 anno corrente, Atene e Sparta firmarono una tregua di cinque anni, ma le ostilità continuarono in altre forme. La spedizione ateniese in Asia minore. Atene inviò una flotta per sostenere le rivolte contro Sparta in Asia minore. Tuttavia, la flotta fu distrutta nella battaglia di Cizzico. La rovina di Atene, nel 404 anno corrente, Atene fu finalmente sconfitta da Sparta. Le mura della città furono abbattute, la flotta distrutta e la democrazia sostituita da un governo oligarchico. Le conseguenze, la guerra del Peloponneso ebbe un impatto duraturo sulla Grecia antica. Atene perse la sua supremazia, e la guerra indebolì l'intera regione, aprendo la strada alla conquista macedone di Alessandro Magno. Questi sono solo alcuni degli eventi significativi descritti nell'opera di Tucidide. La sua analisi accurata e la narrazione dettagliata ci offrono una preziosa finestra sul la storia dell'antica. Grecia